Vuoi dare un tocco di colore al tuo giardino? Allora, forse la gazzania è la pianta che fa per te! Questa pianta, infatti, con l'arrivo della bella stagione, fiorisce creando un meraviglioso contrasto cromatico tra i fiori e le sue foglie grigio-argente. È una pianta molto facile da coltivare, soprattutto per chi vive nelle zone con un clima più umite, quindi perfetto per il sud Italia o nelle zone costiere, mentre per chi vive al nord bisogna avere qualche accortezza e tenerla in ambienti più riparati, ma comunque sempre perfetto l'ambiente illuminato dal sole diretto. In questa foto vediamo rappresentata la gazzania nivea, una delle tante varietà. I suoi fiori sono di piccola dimensione, ma il loro giallo è quasi accecante per quanto è vivace, infatti crea un bellissimo contrasto con le foglie piuttosto argentate. In genere non supera i 15 cm di altezza ed è ampiamente utilizzata nei giardini rocciosi. Questa pianta si presta sia alla coltivazione in vaso sia in pieno giardino. Ricordiamoci però in entrambi i casi di tenerla in un posto esposto al pieno sole. Solo in questo modo si apriranno perfettamente i fiori, tra l'altro una particolarità di questa pianta è che si aprono proprio quando c'è il sole, mentre di notte tendono a chiudersi. Un'altra cosa importante da ricordare su questa pianta è che teme i marciumi radicali, quindi utilizziamo un terreno perfettamente drenante, ma anche ricco di humus, in questo modo garantiamo un giusto nutrimento alla pianta. Conoscevi questa pianta? Fammi sapere con un commento!